Benvenuti e vi ringrazio per la partecipazione a questo terzo incontro di approfondimento promosso dal Centro Clinico Psicoterapia Cognitiva e Ricerca di Mestre. Oggi sarà con noi la dottoressa Valeria Albusa, psicologa e psicoterapeuta, che ci parlerà di ansia e di muginio, come affrontare i pensieri negativi e ricorrenti. Prima della presentazione di Valeria approfitto per presentare in pochi minuti il Centro Clinico e quelle che sono un po' le sue finalità di studio, di formazione e di intervento. Dopodiché vi lascerò all'interessante webinar che ci accompagnerà un po' nella mente del paziente ansioso e rimuginatore. Allora, due parole proprio velocemente di presentazione sul nostro Centro Clinico. Cosa è il Centro Clinico Psicoterapia Cognitiva e Mestre? È un centro clinico e fa parte di un network di altri centri di ricerca che si appoggiano a delle scuole di specializzazione in psicoterapia che sono diffuse, come vedete, un po' su tutto il territorio. L'obiettivo è quello di coniugare in qualche modo la formazione e la ricerca con l'attività clinica sul campo, per cui poter mettere assieme e coniugare proprio al meglio la ricerca e la clinica. Il modello seguito è quello di cognitivo comportamentale o più prettamente cognitivo, con tutti gli sviluppi più moderni che ci sono stati in letteratura nazionale e internazionale. Di che cosa ci occupiamo? Ci occupiamo di tutta una serie di disturbi, qui ne sono elencati alcuni. In realtà siamo un gruppo di colleghi, di psicoterapeuti, che offre appunto un servizio di consulenza e internazionale per l'individuo o per la coppia su tutta una serie di disagi. Quello che mi preme a sottolineare oggi, brevemente, è un po' quella che è la modalità di accesso al centro clinico e come lavoriamo noi. Diciamo che per ogni ricresta che arriva qui di consulenza, di valutazione o anche di intervento, c'è una prima fase di assessment ben strutturata e organizzata, che prevede un primo colloquio con il referente, con le responsabili del centro, in questo momento lo farò io, sono Simone Del Negro, sono psicologo e psicoterapeuta. Facciamo un primo colloquio con la persona che si presenta a noi. Segue una fase di valutazione testistica, che in questo momento viene svolta prevalentemente online, visto un po' le connessioni di restrizione. Si valuta la necessità e il momento di infiancare l'intervento farmacologico, in questo caso potremo dare delle indicazioni di medici, colleghi, oppure la persona stessa può avere dei riferimenti. E viene fatto, al termine di questa prima fase, una valutazione complessiva, globale, sulla richiesta che ci viene portata. Dopodiché si fa un secondo colloquio di rostituzione e vengono date delle indicazioni alla persona, eventualmente se ci sono gli elementi per iniziare una terapia individuale o di coppia, oppure eventualmente la partecipazione ad un gruppo di terapia o psicoeducativo. I servizi che offriamo attualmente in sede sono questi, la psicoterapia individuale o di coppia, la valutazione psicodiagnostica, colloqui clinici di sostegno, di orientamento, di counseling, per situazioni che possono anche essere non cliniche, diciamo, anche di orientamento per le persone. Dei gruppi di psicoterapia o psicoeducativi, che al momento vengono svolti online, questi sono alcuni esempi di gruppi che attiviamo qui, e quindi si tratta di vedere volta per volta, insomma, quali sono le attività che vengono svolte. I modelli di riferimento sono i più vari e soprattutto anche quelli più moderni che hanno dimostrato efficacia negli interventi. Ecco, questi sono i contatti a chi è interessato, vuole avere valutazione, consulenza o anche approfondire qualche argomento ci si può rivolgere a noi con questi contatti qui. Siamo un gruppo appunto di professionisti, di colleghi, che principalmente condividiamo l'approccio cognitivo e ci siamo formati con studi cognitivi di Milano e con psicoterapia cognitiva e ricerca, però abbiamo anche dei contatti, delle collaborazioni con altri colleghi, anche di altri orientamenti, che possono essere di supporto per dare una risposta più ampia a 360 gradi per ogni richiesta che viene. Gli incontri che vi presentiamo oggi, che abbiamo già iniziato a presentarli, sono seguiti da una serie di collaboratori, giocati collaboratori oppure collaboratori che comunque lavorano da diverso tempo e che approfondiscono alcuni argomenti di interesse clinico e scientifico. Ecco, per oggi io con questo concluderei. Ok, lascerei la parola a dottoressa Valeria Barbusa, se ci senti bene. Voi mi sentite bene? Si sente, Simone? Sì, io sento. Un po' basso, ma forse è il mio volume che è un po' basso. Un attimo, che provo ad alzarlo anch'io. Va meglio. Gli imprevisti tecnologici sono un po' ormai alla base di questo periodo prolungato che stiamo vivendo, ma ormai siamo anche abbastanza allenati. Ok, mi dicono che così si sente meglio, se ho alzato un po'. Ecco, benissimo. La dottoressa Valeria Barbusa ci accompagnerà alla scoperta di questo, di quella che è un po' la mente, insomma, del pensiero ansioso e della persona rimuginatrice. Quindi ti lascio la parola, ringrazio a tutti e arrivederci a presto. Sapete che quando volete partecipare agli incontri, visitare il nostro sito oppure scrivere, insomma, agli indirizzi che abbiamo. Valeria, ti ringrazio ancora. Grazie a te. Allora, benvenuti. È un piacere essere qua con voi. Siete in tanti, mi fa piacere. Mi fa piacere che possiate ascoltare questa breve presentazione. Io sono Valeria Barbusa e sono una psicologa e psicoterapeuta e sono anche didatta presso la scuola di specializzazione in psicoterapia di Mestre e collaboro appunto con questo centro clinico. Ho scelto in questa oretta, che ci vedrà insieme, di raccontarvi un po' che cosa significa avere ansia e che cosa significa rimuginare molto. Ho scelto questo tema perché vedo nella mia, diciamo così, pratica clinica che è una delle problematiche che maggiormente affligge le persone, insomma, è una problematica molto ricorrente che merita, diciamo così, il nostro intervento e i nostri interessi. Bene. Ecco, che cos'è l'ansia? Allora, l'ansia è una delle emozioni, tra le tante emozioni che noi abbiamo, l'ansia è una di queste. L'ansia si caratterizza da sensazioni di tensione, da preoccupazioni costanti, da un senso di minaccia, di allerta, che vanno a braccetto con una serie di modificazioni anche fisiche, come ad esempio l'aumento del battito cardiaco, una maggiore sudorazione, un tremore. Diciamo che dal punto di vista tecnico viene definita come un'anticipazione apprensiva di un pericolo o di un evento negativo futuro, accompagnandosi da sentimenti appunto di alterazione dell'umore e da sintomi fisici appunto di tensione. L'ansia spesso viene accomunata alla paura. In realtà queste due emozioni hanno delle caratteristiche in comune, ma altre in realtà che le differenziano. La paura, a differenza dell'ansia, è una reazione estremamente funzionale ad affrontare un pericolo immediato, un pericolo effettivamente reale, presente con noi. Mentre l'ansia si pone come obiettivo, come scopo, quello di affrontare, diciamo così, una preoccupazione relativa invece ad un evento futuro, un evento che deve ancora accadere. Entrambe, anche se comunemente spesso ci capita di dire che sono emozioni tra virgolette negative, entrambe sono emozioni che hanno invece un fortissimo valore adattivo, hanno una loro funzione e hanno un'estrema importanza nella nostra vita. La paura, infatti, è quella che spesso ci protegge da un sacco di situazioni ed è infatti fondamentale nella risposta appunto di attacco o fuga. È appunto quell'emozione che ci permette di attivare tutte le nostre risorse, tutte le nostre capacità per far fronte a un pericolo, a una minaccia. Oppure quando non possiamo attaccare, quando non possiamo vincere, è la stessa emozione che ci fa scappare, che ci fa fuggire da qualcosa di pericoloso. E se noi immaginassimo un mondo senza questa emozione sarebbe estremamente pericoloso. Ma anche l'ansia in realtà ha un valore adattivo perché è quell'emozione tipicamente umana che ci permette di individuare potenziali minacce, problematiche future e a progettare un modo per affrontarle, per gestirle, per risolverle. Quindi va da sé che un giusto grado di ansia ci permette di essere decisamente più preparati, anche più capaci in alcune situazioni rispetto a quando siamo completamente tranquilli. Tuttavia però nell'uomo spesso l'ansia supera un confine di funzionalità. diventa poco utile quando è eccessiva e non riesce più a svolgere questo suo scopo adattivo. Un po' perché spesso quando l'ansia diventa eccessiva si generalizza situazioni che sono anche neutre, che non sono realmente pericolose o problematiche. Anzi, sono spesso situazioni che possiamo tranquillamente affrontare. Oppure, più semplicemente, il livello di ansia diventa così alto, così eccessivo che invece che spronarci all'azione o motivarci a fare, a risolvere la sfida di quel momento, ci blocca, ci paralizza. Quindi non è più utile in quel momento. Ecco, chi soffre di questo tipo di ansia, questo secondo tipo di ansia, quindi un'ansia eccessiva, un'ansia disfunzionale, un'ansia che non è più utile appunto, saprà sicuramente che spesso e volentieri occupa tantissimo del proprio spazio mentale in un'attività che è quella del rimuginio. E adesso vediamo un po' insieme come si caratterizza questa attività mentale. cos'è il rimuginio quindi? Il rimuginio è una sorta di lunga catena di pensieri che blocca e incapsula la nostra attenzione, ci isola dentro la nostra mente e ci tiene proprio fermi lì nell'ansia e rendendola cronica, rendendola duratura e persistente. In termini ancora più tecnici, rimuginio significa preoccuparsi in un modo estremamente analitico, ripetitivo, ricorsivo, delle cose negative che potrebbero capitare in un futuro e riflettere appunto continuamente in modo ricorsivo su tutti questi aspetti negativi della situazione o del proprio pezzetto di esistenza o di una problematica. È come se nella nostra mente questa catena di pensieri si traducessi in tanti e se, e se, e se non riuscissi a superare l'esame, e se non riuscendo a superare l'esame venissi bloccato nel corso di laurea e se venissi bloccato che cosa mi accadrebbe e che cos'altro potrei fare e così via. Quindi una catena molto lunga, molto ripetitiva e sempre più astratta, quindi sempre più distante da un dato di realtà, da un elemento di concretezza che ci tiene proprio ingabbiati dentro quel vortice di pensieri e quindi dentro l'ansia. È quindi un'attività anticipatoria, un'attività che noi facciamo prima di dover effettivamente affrontare una problematica, un'attività anticipatoria che restringe proprio l'attenzione su potenziali, possibili problemi futuri molto prima che essi si realizzino e ben oltre il rischio che effettivamente loro siano poi probabili. Questa attività diciamo così predittiva che anticipa, che cerca di prevedere ciò che sarà può riguardare tutti gli scenari possibili che potrebbero capitare in alcune situazioni, in alcune circostanze e molta di quell'attività mentale è proprio volta a immaginare cosa fare per poterli prevenire questi scenari negativi. Quindi cominciate già a vedere come lo scopo del rimuginio, uno scopo generale del rimuginio è proprio quello di anticipare questi pericoli, queste minacce, questi scenari negativi e cercare anche di anticipare il modo per fronteggiarli, per evitarli. è come se accadesse che di fronte ai nostri dubbi normali, ai dubbi, ai pensieri negativi che transitano nella nostra mente, che affiorano nella nostra mente, è come se la persona durante il rimuginio agganciasse quel dubbio, quel pensiero negativo e desse a quel pensiero un valore di verità, come se diventasse qualcosa di reale, qualcosa che sta accadendo in quel momento, una realtà davvero pericolosa da cui fuggire, da cui ritrarsi. Inizia una catena di pensieri sempre più ripetitiva, sempre più negativa, sempre anche, come dicevo prima, più astratta e ogni tentativo, diciamo così, di rassicurarsi, di trovare una giustificazione, di trovare una soluzione, in realtà diventa essa stessa il motore per un nuovo giro di pensieri. Ok, vedo che arriva qualche domanda, io le raccolgo, rimangono nella chat se voi siete d'accordo, alla fine della presentazione ci teniamo dieci minuti per tornare indietro nella chat e proviamo a rispondere insieme se vi va, ok? Ok. Di fatto, quindi, la persona che rimugina cerca appunto di rispondere all'arrivo di un dubbio o di un pensiero negativo iniziando proprio a ragionarci sopra in modo estremamente analitico e molto astratto e a lavorare tutte le cose negative, tutti i scenari possibili negativi in questa condizione di incertezza proprio perché la situazione deve ancora verificarsi e a immaginare tutte le potenziali risposte che si potrebbero dare in quello specifico scenario negativo. Potete immaginare se qualcuno di voi è una persona che rimugina molto lo sa per esperienza che è un modo di ragionare e di affrontare le situazioni estremamente costoso è un modo diciamo che ci porta via non solo tanto tempo ma è anche proprio faticoso e anche doloroso ed è una strategia che cerca di risolvere la situazione quando di fatto concretamente in quel momento non possiamo ancora agire davvero. Chiaramente rimuginando e continuando a rimuginare è come se noi bloccassimo la nostra mente in questo continuo circuito di valutazioni tra l'altro sempre più negativi man mano che il rimuginio sale e chiaramente ci blocchiamo dentro questo turbinio di ansia no? ed è per questo diciamo così che lo stato di ansia invece che diciamo seguire la sua normale curva cioè avere un picco e poi magari pian piano declinare rimane un po' sospesa e rimane più duratura del dovuto e soprattutto occupa tanto del nostro spazio mentale e della nostra quotidianità molto prima che il problema temuto che la situazione temuta effettivamente accada perché è importante occuparsi di questo processo mentale peraltro anche così così diffuso insomma è importante per diversi motivi allora il tema del rimuginio e come affrontarlo è un tema molto molto caro al nostro centro clinico e al circuito di scuole di specializzazioni di specializzazione in psicoterapia di studi cognitivi a cui il centro clinico di Mestre appunto di cui fa parte è un tema caro che ha trovato diciamo così una sua completa trattazione nel 2017 quando è stato pubblicato un testo che ho qui con me questo che si intitola Rimuginio teoria e terapia del pensiero ripetitivo di Caselli Ruggero e Sassaroli che è un testo che ha come dire raccolto tantissime conoscenze e anche tantissimi spunti di intervento proprio per gestire e trattare il rimuginio in realtà noi sappiamo che la letteratura scientifica si è occupata di questo costrutto del rimuginio in realtà già da molto tempo già dagli anni 90 e un primo diciamo così studioso che si è occupato di questo tema è stato un certo Borkovec che ha osservato nei suoi pazienti che soffrivano un'insonnia quanto questi pazienti si perdessero in questi rimuginio in queste catene di pensieri ricorsive e molto molto negativi e a un certo punto affinalistici anche la nostra Sandra Sassaroli direttrice di studi cognitivi anch'essa già dagli anni 90 insomma aveva invece osservato la presenza di questo processo mentale così faticoso così costoso nelle sue pazienti affette da disturbi alimentari quindi da un certo punto in poi la letteratura scientifica ha cominciato a vedere che il rimuginio era presente in tanti disturbi che non era solo un aspetto che caratterizzava ad esempio gli ansiosi era un aspetto che toccava diverse difficoltà problematiche psicologiche dall'ansia alla depressione ai disturbi alimentari all'insonnia ma anche a tante altre poi c'è stato un altro motivo e c'è un altro motivo per cui è importante occuparsi di rimuginio che questo dipende un po' dal fatto che la personale vulnerabilità emotiva che tutti quanti noi abbiamo un po' per predisposizione un po' per nostra storia personale o familiare viene esacerbata viene aggravata viene accentuata e messa in difficoltà proprio da questo processo mentale cioè il rimuginio diventa diciamo così uno stile di pensiero che rende quella vulnerabilità che ognuno di noi ha effettivamente un disturbo quindi voi capite bene che sommando questi due elementi possiamo sostenere che il rimuginio sia uno dei principali processi che amplificano e prolungano la nostra sofferenza e prolungano la nostra sofferenza a livello appunto transdiagnostico cosa vuol dire indipendentemente dal contenuto della nostra sofferenza quindi è proprio un processo assolutamente cardine di tutta la sofferenza psicologica e quindi è importante conoscerlo ed è importante sapere come intervenire su questo su questo aspetto così fondamentale nella sofferenza umana prima prima di capire un po' meglio come si comincia a immaginare di poter intervenire su rimuginio vorrei insieme a voi osservare quali sono i danni se così possiamo dire insomma le conseguenze che rimuginio fa su di noi sulle nostre vite quando è eccessivo quando occupa tanto nel nostro tempo innanzitutto il rimuginio prolunga appunto gli stati mentali spiacevoli e quindi favorisce stati di insonnia di tensione di stanchezza somatizzazioni come ad esempio il mal di testa ma soprattutto aumenta la sensazione di essere in pericolo di essere che ci sia una minaccia che ci sia costantemente un problema un allarme che si accende ogni due per tre e impedisce invece che la mente faccia il suo normale lavoro di cui è capace di autoregolarsi e di transitare dentro gli stati emotivi senza rimanerci invischiata o senza diciamo così sprofondarci dentro come se fossero delle sabbie mobili e ovviamente tiene fissi tiene fisse nella nostra testa queste sensazioni spiacevoli prolungando il nostro umore negativo riducendo la nostra capacità di attivarci di essere proattivi di essere vigili nella nostra quotidianità e lasciandoci addosso un po' una visione negativa di noi degli altri del futuro rimarcando invece questi continui feedback di memorie negative sia del passato che del presente e quindi di fatto è in grado di consumare le nostre risorse mentali in che modo lo fa innanzitutto lo fa riducendo il nostro livello di attenzione e di memoria se siamo così tanto concentrati in quella catena di pensieri ripetitivi ricorsivi va da sé che abbiamo molte meno risorse per spostarci su qualcosa di altrettanto anzi magari alle volte più importante di quello che sta accadendo nella nostra mente riduce la nostra creatività siamo concentrati solo lì e quindi non riusciamo ad esplorare l'ambiente raccogliere quegli stimoli che potrebbero così farci accendere la lampadina accendere la nostra creatività e il pensiero si fa sempre più astratto e sempre meno concreto che è la cosa più distante dall'essere pronti ad affrontare effettivamente un problema quando un problema davvero si presenta davanti a noi noi abbiamo la necessità di essere molto concreti di essere molto pratici di capire cosa fare in quel momento lì e poi insomma ci rende estremamente indecisi perché continua ad alimentare una catena infinita di dubbi che non trova mai potenzialmente compimento perché la nostra mente è talmente fantastica ma è anche in grado di aprire un sacco di finestre come se fosse un po' un computer avete presente quando va un po' in tilt che apre tantissime finestre una dietro l'altra no un po' così oggi ho scelto di condividere con voi in questa oretta prevalentemente l'aspetto del rimuginio di carattere ansioso ma vorrei che voi sapeste che in realtà esistono diverse forme di rimuginio ad esempio ad esempio c'è un un rimuginio desiderante quindi ad esempio il tornare con i pensieri ma anche con l'immaginazione su qualcosa che desideriamo che non abbiamo in quel momento e continuare ad immaginare come poterlo ottenere cosa fare per riuscire ad arrivare a quella cosa a quell'oggetto desiderato ma anche un rimuginio che non è è propriamente un rimuginio tant'è che si chiama in un altro modo ovvero si chiama ruminazione che invece che cominciare con quella parolina che vi ho detto prima che è le se spesso anzi sempre inizia con un'altra parola che è il perché e ha due sfaccettature una più depressiva e una più rabbiosa la depressiva è quando ci facciamo continuamente catene di perché sul nostro disagio sulla nostra problematicità sul fatto che non funzioniamo e perché proprio io perché io non ce la faccio e così via invece una ruminazione rabbiosa che si attiva tutte le volte che ci sono perché che hanno a che fare con una percezione di ingiustizia subita o di offesa o di umiliazione sia subita che osservata quindi vedete in realtà che questo processo mentale con sfaccettature un po' diverse si applica in realtà a diversi aspetti del nostro del nostro pensiero e diciamo che c'è stato a un certo punto uno studioso insomma che è un certo Adrian Wells che è uno psicologo e clinico britannico che è autore di numerosissime pubblicazioni scientifiche a un certo punto questo autore ha proprio si è proprio occupato in un modo molto specifico e molto approfondito di queste modalità di pensiero di questi processi di questi stili di pensiero ovvero rimuginio se volto al futuro la ruminazione se volto a qualcosa che è già accaduto nel passato questo autore ha rimarcato come questi meccanismi siano dei meccanismi sottostanti i disturbi psicologici in particolare l'ansia e la depressione e i suoi studi hanno portato proprio la creazione di modelli e trattamento e tecniche di intervento per curare appunto questi disturbi e questi modelli e queste tecniche di intervento hanno preso il nome di terapia metacognitiva in questo modello in questo tipo di terapia si sottolinea proprio il fatto che la caratteristica in comune da questi diversi disturbi è proprio la presenza di questo pensiero ripetitivo negativo che viene da tutti i pazienti da tutte le persone percepito come difficile da controllare quasi incontrollabile e che tendenzialmente produce appunto delle visioni molto distorte della realtà che alimentano l'ansia e la depressione questa modalità diciamo così di funzionamento è stata chiamata sindrome definita sindrome cognitivo attentiva e che consiste sostanzialmente nell'attivazione di questi stili di pensiero come rimugini o la ruminazione e questa tendenza a fissare l'attenzione su questi pensieri su questi stimoli avvertiti come minacciosi e sul modo e su modi poco utili poco funzionali di gestire questa situazione e questo sistema cognitivo e attentivo è controllato e modulato da una serie di idee da una serie di regole e idee e credenze che vengono definite in gergo metacognitive cosa è la metacognizione la metacognizione è quell'aspetto diciamo così del funzionamento mentale che controlla i nostri processi attentivi e di pensiero poi guarderemo insieme bene quali sono le tipiche credenze metacognitive che alimentano e sostengono nelle persone questo questo questa attività di rimuginio quindi sostanzialmente per questa terapia metacognitiva l'errore principale se così si può definire che le persone compiono è quello proprio di ritenere indispensabile impossibile non farlo di rimuginare sui problemi e che sia impossibile smettere di farlo quasi come se fosse qualcosa fuori dalla nostra volontà fuori dal nostro controllo ovviamente queste strategie disadattive di gestire i propri pensieri creano molta sofferenza emotiva quindi più noi rimuginiamo sui contenuti negativi più manteniamo nella nostra mente uno stato continuo di stress e di disagio emotivo quindi cosa rende anzi no prima di andare avanti volevo farvi vedere questo immaginate ad esempio che arrivi può succedere nella nostra mente fatta così è continuamente attraversata da pensieri da dubbi anche negativi anche faticosi anche sgradevoli immaginiamo ad esempio che arrivi un pensiero negativo come sbaglio sempre tutto beh possiamo prendere due vie una che è rimuginarci sopra e fissarsi su quell'aspetto negativo e creare una catena ancora più negativa di pensieri a partire da quell'input di pensiero iniziale che ovviamente manterrà la nostra preoccupazione la nostra ansia la nostra tristezza e ci porterà probabilmente anche ad evitare situazioni in cui pensiamo di sbagliare tutto l'altra via è quella di poter notare questo pensiero che transita nella nostra mente valutarlo valutarlo per quello che è cioè quindi come un evento della mia mente come un pensiero non come una realtà come qualcosa che sta accadendo lasciarlo in pace e scegliere se non ha rilevanza pratica in quel momento di rivolgere la mia attenzione a ciò che mi è più utile invece nel qui e nell'ora anche eventualmente per risolvere la situazione in questo caso vedete che l'esito dal punto di vista emotivo è diverso perché sì posso stare ancora in uno stato emotivo spiacevole ma è uno stato emotivo in cui posso transitare che scorre e poi e poi passa e quindi perché se Rimuginio in realtà è fonte di sofferenza diventa di fatto una strategia così tanto battuta da da molte persone no? da tanti di noi come mai se è una cosa che ci fa poi alla fine far aumentare la nostra sofferenza come mai la percorriamo così tanto la strada del Rimuginio beh probabilmente se voi poteste rispondere molti di voi direbbero beh non dipende da me qualcosa che io non posso controllare è incontrollabile non posso farci niente sostanzialmente parte inizia e è qualcosa che io non posso in nessun modo gestire in nessun modo controllare beh ecco questa convinzione che appunto proprio per richiamare quanto abbiamo appena detto possiamo definire una metacredenza una credenza su come funziona il nostro pensiero la nostra attenzione questa convinzione che Rimuginio sia incontrollabile è la prima è il primo fattore il primo elemento importante per rimuginare eccessivamente c'è proprio l'idea che Rimuginio sia qualcosa fuori dal nostro controllo di fatto ci fa non smettere di rimuginare ci ci fa rimuginare tanto scoprire invece di avere il controllo sul rimuginio è di fatto uno dei principali probabilmente il primo punto nevralgico degli interventi di riduzione del rimuginio e quindi dell'ansia ci tengo a sottolineare il fatto che controllare il proprio rimuginio imparare a controllare il proprio rimuginio non significa non avere mai più pensieri negativi non osservare mai più brutti pensieri nella nostra mente questo è un obiettivo inarealistico impossibile da perseguire la nostra mente produce costantemente pensieri negativi automatici e li produce sulla base della situazione in cui siamo in quel momento ma anche sulla base della nostra sensibilità della nostra vulnerabilità personale della nostra storia di vita di ciò che ci è successo nel corso della nostra vita quindi va da sé che cercare di eliminare la presenza dei pensieri negativi nella nostra mente è impossibile ma non solo è impossibile anche proprio controproducente cioè non non è fuorviante e soprattutto cercare di sopprimere i pensieri negativi fa un effetto boomerang i pensieri negativi rimbalzano ancora di più nella nostra mente noi infatti non dobbiamo quindi darci come obiettivo quello di sopprimere i pensieri negativi che peraltro abbiamo appena detto che sarebbe impossibile ma dobbiamo proprio imparare a lasciar scorrere questi pensieri negativi a non agganciarli a non a non fermarli a non stare con loro eccessivamente a poterli osservare perché esistono osservare che transitano nella nostra mente ma trattarli per quello che sono cioè un pensiero e non qualcosa di davvero reale in quel momento nessuno di fatto insomma se voi ci pensate anche nelle vostre esistenze nella vostra quotidianità nessuno di noi rimugina sempre e per sempre ci sono dei momenti che sono liberi diciamo così che sono lasciati in pace insomma dal rimuginio ad esempio ci concentriamo su una conversazione con un collega riposiamo dormiamo mangiamo guardiamo un film giochiamo con i nostri bambini quindi di fatto la nostra mente è in grado di controllare il nostro il nostro rimuginio e questo è un passaggio molto importante perché invece molte persone pensano che sia qualcosa di non controllabile quindi rendersi conto che invece lo è che è qualcosa che noi possiamo domare gestire limare ridurre è il primo passo per mettere in discussione questa metagredenza questa convinzione che il rimuginio sia incontrollabile una domanda che è utile da porsi è proprio chiedersi ma come si è affermato il mio rimuginio l'ultima volta e vi spronerei ad osservare le risposte che automaticamente vi verrebbe da dare perché molte persone rispondono diciamo così utilizzando cioè o meglio rispondendo dicendo che il rimuginio si è interrotto perché c'è stata una causa esterna un fattore esterno che a un certo punto ha bloccato questo rimuginio che ne so qualcuno che mi chiama qualcuno che mi cerca il telefono gli altri che mi includono in una conversazione il nostro capo che arriva e interrompe il nostro flusso di pensieri o magari qualcuno potrebbe anche dire beh no il mio rimuginio si è interrotto perché a un certo punto io ero estremamente rilassato e tranquillo mi stavo facendo mi stavo sentendo bene in una certa in un certo momento della mia giornata quindi quasi come un po' a dire sì se sono tranquilla non rimugino ma questo vedete che è un diventa un un cortocircuito perché come dire invece se sono in ansia rimugino tanto e così attivo un circolo vizioso ma in ogni caso che sia una causa esterna o che sia una sensazione interiore è come se noi delegassimo un'interruzione o una modulazione del nostro rimuginio a qualcosa che non ha a che fare con la nostra volontà qualcosa di diverso dalla nostra volontà quindi il primo passaggio diciamo utile da fare per cominciare a capire innanzitutto se rimuginiamo ma a capire quanto rimuginiamo quando rimuginiamo e come ci fermiamo da rimuginare è proprio importante accorgersi di questi aspetti cioè di quando e quando rimuginiamo e quando smettiamo anche proprio per fare attenzione ad alcuni comportamenti che spesso emergono che sono un po' disfunzionali come ad esempio appunto prima accennavo al fatto di tentare di sopprimere i pensieri oppure immaginiamo di cercare tante rassicurazioni per risolvere i nostri dubbi nelle altre persone coinvolgendoli nei nostri dubbi cercando appunto di farsi rassicurare oppure ad esempio magari immaginiamo di evitare le situazioni che ci spaventano che ci preoccupano ecco vedete che noi cerchiamo alle volte di gestire rimuginio ma con delle azioni che in realtà non sono affatto risolutive non sono nemmeno funzionali anzi che alla lunga sottolineano ulteriormente il fatto che non posso controllare il rimuginio in modo volontario pensate ad esempio a questa prima a questo primo comportamento poco funzionale poco produttivo che ad esempio appunto la soppressione del pensiero mi è mai capitato qualcuno mi ha mai proposto di provare ad immaginare qualcuno qualcuno anzi che vi dicesse provate a non pensare ad un elefante rosa non pensare ad un elefante rosa mi raccomando non pensare ad un elefante rosa ecco assolutamente senza volerlo quell'elefante rosa è già spam buttato lanciato dentro la nostra testa e più noi ci diciamo di non pensarci più continuamente lui rimbalza e fa i suoi bei giri i suoi bei salti dentro il nostro il nostro cervello quindi supprimere il pensiero dirsi non ci pensare non ci pensare è pericoloso un brutto pensiero non lo tenere con te ecco quello è uno dei modi meno utili per riuscire a far scorrere i pensieri negativi che è appunto diverso dal volerli sopprimere e appunto la soppressione del pensiero questo tentativo un po' fallimentare di gestirli aumenta di fatto proprio l'intrusività dei pensieri automatici stessi quindi sono sono tutte queste delle strategie poco efficaci perché hanno sostanzialmente due conseguenze principali uno aumentano i pensieri intrusivi che rimbalzano appunto nella nostra nella nostra testa in più se pensiamo ad esempio alla rassicurazione continua richiesta agli altri piuttosto che agli evitamenti ci creano dei problemi anche ad esempio dal punto di vista interpersonale o gli evitamenti riducono la nostra possibilità di muoverci nelle cose per noi importanti nel mondo evitare significa dover rinunciare a qualcosa che per noi è importante ma c'è anche un'altra conseguenza ancora più interessante è che questi comportamenti non ci permettono mai di scoprire se possiamo gestire regolare modulare il nostro rimuginio in un altro modo diverso da questi e quindi rimane nella nostra mente l'idea che il rimuginio sia incontrollabile proviamo quindi a capire insieme cosa possiamo iniziare a fare insomma giusto per mettere degli input nella nostra mente cosa possiamo fare per controllare un po' di più il nostro il nostro rimuginio qui vi ho messo il deceno appunto a questa piccola metafora la metafora della telefonata indesiderata per capire un po' meglio il concetto possiamo ad esempio immaginare i nostri pensieri negativi ricorrenti come i nostri pensieri negativi automatici che attraversano la nostra mente come una telefonata che non vogliamo fare una telefonata sgradevole una telefonata sapete no quando alziamo lo smartphone diciamo no 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 questa persona no questa telefonata non la voglio proprio cosa facciamo di solito a meno che non sia una telefonata esageratamente importante semplicemente la lasciamo suonare no ignoriamo magari mettiamo silenzioso la ignoriamo sentiamo vediamo che la telefonata c'è sta continuando ad andare ma non non rispondiamo non diamo corda a quella telefonata non gli diamo in qualche modo non gli diamo vado no non serve spegnere la telefonata non serve sopprimerla mettere giù bruscamente non serve lanciare il telefono non serve nascondersi in un'altra stanza semplicemente non rispondiamo e la mente un po' in questo modo si regola pian piano da sola si regola autonomamente e questa è una cosa importante i pensieri anche quelli molto negativi quelli molto faticosi e gravosi e le emozioni dolorose e faticose se lasciate in pace se non agganciate se non prese strette e se scorrono si regolano a un certo punto in autonomia trovano una loro modalità di tornare in una dimensione più gestibile e voi direte beh caspita sì è vero ma è un po' faticoso da imparare non è così scontato e avete ragione è un cambio diciamo così di veduta sul nostro rimuginio e sui nostri pensieri negativi che a volte accorrono nella nostra mente che è effettivamente diversa magari da quello a cui siamo abituati a pensare no? cioè quindi di dover agganciare il pensiero e di doverci riflettere molto sopra una cosa che ci può aiutare fin da subito è quello di provare a creare un tempo e uno spazio precisi per il nostro rimuginio cosa vuol dire? come se noi dovessimo immaginare so che sembra un po' bizzarro però funziona come se noi dovessimo immaginare di segnare nel nostro diario nella nostra agenda insomma quotidiana uno spazio per il rimuginio e tutte le volte che i dubbi i pensieri negativi arrivano io volontariamente scelgo di non agganciarci di non starci a riflettere sopra di non creare altre catene di pensieri e di posticipare quell'attività mentale in quel momento della giornata che io ho deciso di dedicare al mio rimuginio non è facile all'inizio ci vuole come tutte le cose tanto allenamento ma poi ci si riesce è qualcosa che funziona è qualcosa che si può fare e se poi voi dite vabbè ok quando arriva il momento di rimuginare se per caso non ne ho voglia che succede beh insomma in quel caso lì potete decidere di non rimuginare se ritenete che non vi è più utile che il momento è passato però questo questo piccolo suggerimento questa piccola tecnica che in realtà però è davvero molto utile e molto utilizzata ci permette di cominciare a sperimentare che possiamo noi decidere quando e quanto del nostro tempo dedicare a questa a questa attività e soprattutto che abbiamo che ognuno di noi ha la capacità di rinviare quella catena di pensieri ad un dato momento quindi che non è qualcosa totalmente fuori dal nostro controllo e in questo modo vedete che cominciamo già a mettere in discussione l'idea che rimuginio sia qualcosa di incontrollabile qualcosa che si ferma solo se un evento esterno ci aiuta e gestire però solo l'aspetto dell'idea dell'incontrollabilità del rimuginio non è però sufficiente per riuscire a lavorarlo e a modularlo bene non basta lavorare quindi solo sull'idea appunto che il rimuginio sia incontrollabile perché in realtà ci sono altre credenze altre idee che sostengono altre metacredenze che sostengono il rimuginio e questa attività mentale insomma e sono delle credenze delle idee che hanno a che fare con un'idea di necessità e di anche di di utilità proprio del rimuginio e di conseguenza molte persone hanno paura a lasciare andare il loro rimuginio proprio perché lo pensano in qualche modo utile protettivo funzionale e vorrei vedere con voi adesso un po' di alcune di queste diciamo così di queste idee di queste di queste credenze allora partiamo da quella che spesso e volentieri è proprio presente nella mente di molte persone no cioè il rimuginio mi aiuta a risolvere e affrontare le situazioni problematiche quindi preoccuparmi è come dire preoccuparmi mi aiuta ad anticipare appunto e a risolvere il problema che temo la situazione problematica di cui ho paura che ho paura che si realizzi che si che accada ovviamente non è davvero così cioè starci tanto a preoccupare di una cosa non ci dà realmente più strumenti per risolvere i problemi in realtà non facciamo altro che sostanzialmente avvicinarci alla situazione problematica e all'eventuale problema ancora più stanchi ancora più spossati e stressati e ancora diciamo così con meno risorse di fatto per fronteggiare la situazione problematica e poi è interessante questa credenza qui perché è come se noi ci dicessimo che preoccuparsi quindi occuparsi del problema prima ancora che essi si presentino sia un modo molto sicuro di azzeccare il problema giusto lo scenario giusto e l'ipotetica soluzione giusta ma qui ci dobbiamo chiedere se questa attività mentale questo processo mentale carimuginio se davvero ha la capacità di essere così preciso così accurato nell'individuare quale sarà effettivamente lo scenario che si realizza è davvero così in realtà quante volte c'è successo di avere mille scenari uno peggio dell'altro nella nostra mente poi di fatto quello che si è concretizzato si è realizzato non era nessuno di quelli era molto diverso o era molto più sottile era molto più tranquillo più semplice insomma la maggior parte degli scenari che di fatto noi teniamo nella nostra mente non accade non accade mai e per quanto noi ci stiamo a pensare non possiamo essere sicuri di cogliere effettivamente lo scenario giusto quello che poi effettivamente accade ma soprattutto aggiungo anche un'altra cosa ma soprattutto quando nella vita c'è accaduto di avere davvero un problema cioè di incappare davvero in una situazione più o meno problematica più o meno gravosa di avere un intoppo di avere banalmente un imprevisto cioè noi reagiamo in che modo beh di fronte a una situazione imprevista improvvisa un problema le persone risolvono queste situazioni qua con le loro capacità mentali di problem solving e non in virtù di quanto prima hanno diciamo così occupato il loro spazio mentale con le preoccupazioni e soprattutto se sono preoccupazioni come accadono e rimogenio che diventano sempre più catastrofiche e sempre più enfatizzate sempre più distanti dalla realtà quindi vedete che in realtà rimogenio ci sposta più che avvicinarci alla soluzione del problema poi un'altra credenza un'altra idea relativamente all'utilità del rimogenio è che rimogenio sia una modalità che ci protegge dal soffrire troppo quindi un po' quella che viene definita l'ipotesi dello scudo emozionale cioè sostanzialmente se mi preoccupo delle cose negative che potrebbero accadere soffrirei meno qualora accadessero allora qui questa è una credenza interessante tra l'altro una credenza anche molto ricorrente nelle persone sostanzialmente i dati della letteratura le ricerche dicono ma così così non è esattamente così non è che se ci sto a pensare tanto allora poi soffrirò meno qualora la cosa che temo dovesse avverarsi in realtà gli studi ci dicono in realtà che abbiamo la percezione di soffrire meno ma semplicemente perché nell'attività anticipatoria quindi nell'attività di preoccupazione che ha preceduto l'evento drammatico io mi sono preoccupato tantissimo e ho sofferto tantissimo sono stato un male cane e quindi in realtà la sensazione di soffrire meno è una sorta di scarto da 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 quanto ho sofferto prima e quanto soffro effettivamente in quel momento lì quindi sembra insomma che il rimuginio non sia poi così utile nemmeno nemmeno per questo perché sostanzialmente anticipare tanto la sofferenza prima che essa accade ci fa stare malissimo si fa stare un sacco male ancora prima che la cosa si realizzi si concretizzi insomma poi c'è l'idea che rimuginio mi aiuti a capirmi meglio ad avere una conoscenza più approfondita di me a diventare una persona migliore a non commettere più sbagli come in passato non commettere più degli errori un po' l'idea a cui avevo accennato anche prima che rimuginare in questo modo riflettere in questo modo così analitico astratto ripetitivo e negativo possa a un certo punto farci venire una sorta di accensione di idee di lampadine e troviamo il modo di capire di non sbagliare più di migliorarsi e così via ma la verità è che in realtà quando noi stiamo rimuginando è come se noi rimasticassimo continuamente gli stessi elementi dentro la nostra mente siamo talmente tanto dentro la nostra mente e il focus attentivo è talmente tanto rivolto verso quell'attività lì che effettivamente non facciamo altro che rimescolare gli stessi pensieri negativi al massimo enfatizzandoli però giriamo sempre attorno a quelli invece in realtà noi sappiamo per esperienza nella nostra vita che i momenti in cui aumentiamo la nostra conoscenza aumentiamo la nostra comprensione di noi stessi del mondo e diventiamo abili a non commettere più errori ecco questa cosa accade perché restiamo aperti il nostro focus attentivo rimane aperto su ciò che accade su ciò che accade fuori fuori di noi e spesso e volentieri anzi impariamo attraverso anche gli errori no e quindi il nostro modo di apprendere migliorare e correggerci è molto distante da quello che in realtà avviene quando noi rimuginiamo banalmente tra l'altro quando rimuginiamo anche da soli un'attività che non facciamo con noi stessi appunto rimastichiamo talmente tanto i nostri stessi contenuti che non inseriamo nel nostro sistema di soluzione del problema degli elementi nuovi e innovativi che possono darci una chiave di volta e una lettura alternativa alla problematica stessa tant'è che ci sarà capitato tantissime volte nella vita che a volte basta confrontarsi con qualcun altro che immediatamente si apre un'altra visione sulla problematica stessa no e di fatto insomma la soluzione dei problemi avviene prima e avviene meglio quando noi lasciamo un po' in pace la nostra mente e anche i nostri slanci più innovativi più creativi insomma hanno trovano respiro quando noi non siamo in questa attività di rimuginio un'altra un'altra credenza è quella che rimuginare ci renda delle persone migliori delle persone profonde delle persone che non sono affatto superficiali che sono persone di valore questa è un'idea che ha sicuramente anche un carattere molto culturale insomma dipende anche un po' dal contesto culturale ed educativo in cui siamo inseriti cioè che un po' ci dice preoccupati delle cose così sei una persona degna di valore intelligente soprattutto ecco l'idea proprio che stare tanto preoccuparsi sia sinonimo di intelligenza però è davvero l'unico modo in cui eventualmente noi ci riconosciamo come persone profonde intelligenti e persone di valore quanto rimuginiamo ma credo di no insomma lascio anche a voi questa provocazione ma non credo insomma che l'idea che noi abbiamo di noi e degli altri debba passare di profondità e di valore debba passare unicamente da il quantitativo di tempo che noi adoperiamo per rimuginare poi c'è un'altra credenza e un'altra idea ancora sull'utilità e la necessità del rimuginio che è l'idea che rimuginare in qualche modo sostenga l'azione cioè sostanzialmente mi motivi ad agire è un po' come come se ci dicessimo per agire mi devo molto preoccupare mi devo molto spaventare delle conseguenze negative che potrebbero capitare se io non agisse se io non mi attivassi e rimugino su questa cosa per spronarmi per motivarmi in realtà noi sappiamo bene che questa operazione diciamo mentale come abbiamo visto all'inizio di questa presentazione riduce ostacola insomma le nostre capacità di concentrazione e di fatto non non si riesce poi di fatto ad agire se noi ci auto spaventiamo in qualche modo preoccupandoci eccessivamente di quello che potrebbe accadere se io non facessi una determinata cosa è come quando dobbiamo affrontare lo studio diciamo mamma mia studia perché se non studi non passerei l'esame sarà un casino se noi ci perdiamo dentro quel circuito di pensieri di fatto in quel momento non portiamo la nostra attenzione sul testo sulle slide o sulla dispensa che dobbiamo studiare insomma e ci stressiamo così tanto che a un certo punto lanciamo il libro e diciamo bene oggi non ne posso più non studio più quindi vedete che anche in questo caso è come dire controproducente insomma e poi c'è un'altra idea relativa al fatto che Rimuginio mi tenga al sicuro ecco questa è un'idea se vogliamo molto più delicata è molto più come dire molto ancora più profonda rispetto rispetto alle altre a volte ci sono ci sono persone che fin da piccole fin da bambini no maturano questa modalità di gestire situazioni attorno a loro caotiche complesse non sicure dove c'è confusione ma dove a volte c'è anche pericolo c'è una mancanza di sicurezza attraverso appunto il Rimuginio ovviamente in questa opzione smettere di rimuginare è ancora se possibile più complesso no perché c'è un'idea che oddio se smetto di rimuginare non mi sentirei più al sicuro no ed è sicuramente un'idea all'interno di un frangente di terapia che va affrontata e accolta e gestita con tutte le dute misure tecniche accorgimenti che in una terapia si hanno ecco che un po' per arrivare verso la conclusione poi ci confrontiamo insieme attraverso le vostre domande che è altrettanto importante come abbiamo visto prima per l'idea di incontrollabilità del Rimuginio è altrettanto importante essere consapevoli del perché rimuginiamo e qual è lo scopo con cui noi rimuginiamo questa è una domanda da porsi per capire meglio no come mai rimaniamo agganciati a questa attività anche se ci stanca anche se ci debilita anche se ci ruba tempo ed energie e vi invito proprio a prendervi uno spazio insomma per individuare e mettere un po' in discussione questa questa idea no sottostante il vostro Rimuginio qualora voi queste persone che rimuginano e chiedervi cominciare a chiedervi se è davvero utile per ottenere e per raggiungere insomma gli scopi importanti della nostra della nostra vita insomma della nostra esistenza ecco io per quanto riguarda la presentazione termino qui adesso tolgo le slide così riesco a vedere la vostra la vostra chat e proviamo a guardare insieme le domande che sono arrivate ok allora salgo un po' ok anche Rimuginio su eventi passati può avere lo stesso effetto antivicidibatorio su un evento futuro e sulla sua conseguente ansia e che va a braccetto con altre domande che ci sono dopo sulla distinzione tra Rimuginio e ruminazione allora Rimuginio è un'attività mentale spesso connotata da queste parole all'inizio e se e quindi che presuppone che sia volta verso un evento futuro verso qualcosa che deve ancora accadere la ruminazione invece è un'attività di pensiero ripetitivo ricorsiva e anch'essa analitica e molto verbosa però volta verso sostanzialmente qualcosa che è già accaduto qualcosa che fa parte di noi nel nostro disagio qualcosa che è successo e che ci e che teniamo agganciato chiedendoci perché quindi si connota più da questa parola dal perché e se fosse volentieri appunto è volta al passato volta a qualcosa che è già che è già accaduto molti di voi mi chiedono se è possibile avere le slide questo non lo so mi devo confrontare con con la segreteria eventualmente per questa cosa qua quindi eventualmente vi chiedo di scrivere una mail rispetto a questo oppure se la segreteria riesce a rispondermi in diretta anche rispetto quello che hanno fatto con gli altri webinar vi so dire subito ok ok allora vediamo un po' allora appunto se le slide siano disponibili non lo so quello che vi so dire è che sì l'evento viene registrato e di solito dopo almeno alcuni degli altri webinar sono stati anche poi pubblicati su state of mind e quindi li potrete poi trovare eventualmente pubblicati successivamente anche su sul sito di state of mind ok vediamo le altre domande ok giusto qualcuno dice caspita ma qual è la giusta ansia ad avere prima di una situazione problematica e quando invece diventa un rimuginio che non ci è effettivamente utile ma una delle principali differenze sta nel fatto che solitamente quando noi siamo in una modalità di problem solving quindi una modalità effettivamente a visualizzare il problema e ad affrontarlo solitamente riusciamo ad essere molto concreti molto aderenti alla realtà molto sul pezzo del problema realmente e non apriamo infiniti scenari che si discostano sempre di più dall'elemento concreto della realtà diventando peraltro sempre più astratti sempre più improbabili ecco quando andiamo in quella direzione lì stiamo rimuginando stiamo facendo qualcosa che è diverso da un problem solving che prevede necessariamente che noi si abbia dei dati degli elementi in mano per affrontare un problema che è lì con noi non un problema che immaginiamo potrebbe accadere ma forse no no quindi tutte le volte che noi ci accorgiamo che i nostri essi diventano incessanti ripetitivi diventano sempre più veramente sempre più astratti più distanti dalla soluzione del problema e continuamente sempre più negativi sempre più catastrofici ecco che ci stiamo allontanando da un'ansia anticipatoria tra virgolette utile ed efficace ok alcune persone ci scrivono il mio rimuginio è solo focalizzato ad esempio su alcuni contenuti di pensiero che può essere ad esempio l'ansia per le malattie la preoccupazione per la salute mia e degli altri ma un po' le cose che abbiamo detto in questo webinar valgono anche per quel tipo di rimuginio indipendentemente da quello che è il contenuto del pensiero no e quindi sostanzialmente un po' noi dobbiamo ragionare sui due versanti che oggi vi ho buttato lì come input per iniziare poi chiaramente se l'ansia e se il rimuginio sono importanti e sono costanti vi invito diciamo così a rivolgervi effettivamente a un professionista che possa darvi un aiuto all'interno di una terapia per capire le vostre specifiche problematiche che vi tengono ancorati al rimuginio no ma il primo input che abbiamo visto oggi è ad esempio l'idea di mettere in discussione il fatto che io non posso farci niente ma se ad esempio io decidessi di dedicare uno spazio durante il giorno al mio rimuginio e rinviare quella catena di pensieri negativi ripetitivi in quello spazio in quel momento invece che spalmarli e lasciare che io li agganci tutto il giorno e in ogni momento cosa accadrebbe sarebbe uguale sarebbe diverso e soprattutto un'altra cosa utile da chiedersi è come mai per me è così importante credo che a furia di starci sopra a furia di preoccuparmi sia più pronta per affrontare un'eventualità negativa è davvero così ok vediamo se ce ne sono altre qualcuno dice giustamente beh insomma a volte rimuginare a volte serve no beh insomma in piccole quantità in piccole dosi senza che sia accompagnato da sofferenza senza che quindi diventi eccessivamente ripetitivo ridondante e sempre più distante da quella che è la realtà in piccoli momenti di riflessione non sono dannosi a nessuno il problema è quando il rimuginio diventa un'unica e rigida modalità per affrontare un dubbio e un potenziale immaginato evento futuro ecco che allora se il rimuginio diventa ripetitivo costante rigido cioè l'unica cosa che possiamo fare ecco che allora lì si annida la sofferenza chiaramente molto molto della nostra sofferenza dipende anche dalla quantità di tempo che noi passiamo che noi passiamo a rimuginare no ok qualcuno 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 chiede poi se cerca osservare i pensieri lasciarli andare non favorisca poi una sommatizzazione dei pensieri negativi stessi cioè che non che non diventino a un certo punto ok li lascio scorrere mentalmente però dopo mi saltano fuori sotto forma di mal di testa o mal di pancia o tensione muscolare eccetera in realtà no in realtà la letteratura ci dice proprio il contrario cioè ci dice proprio che stare agganciato a un pensiero negativo anche se non ha una ricaduta pratica immediata in realtà è quello lì il modo affinché ci venga eventualmente cioè di essere più esposti eventualmente al mal di testa piuttosto che la tensione muscolare piuttosto che l'insonnia imparare ad osservare i pensieri e lasciarli scorrere invece una modalità che si è visto e gli studi della letteratura hanno dimostrato che invece aiuta a ridurre proprio il senso di ansia e di tensione e quindi di tensione muscolare associata con tutte le sue manifestazioni con tutte le sue manifestazioni somatiche e molti di voi mi stanno chiedendo tecniche tecniche specifiche ovviamente in questo momento non riusciamo a dare risposta a tutte queste cose qua se tra noi ci sono dei clinici a fare queste domande o comunque degli psicologi o dei colleghi insomma che vogliono approfondire l'argomento vi consiglio di comprarvi questo testo qua che è quello che citavo prima che si chiama appunto Rimogenio Teoria e Terapia del Pensiero Ripetitivo dove potete sopra trovare tutta una serie di metafore esercizi e consigli tecniche proprio per gestire l'incontrollabilità e la necessità del Rimogenio sia per il Rimogenio ma anche qualcuno mi chiedeva per la ruminazione ovviamente appunto alcune delle metafore possono essere utilizzate sia per l'uno che per che per l'altro ok qualcuno ok ok vi scrivo qui il titolo è un testo per per colleghi insomma per psicologi psicoterapeuti insomma che poi vogliono pensare insomma di poterlo utilizzare nella propria pratica clinica un attimo un attimo solo che ve lo giro ok 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 allora sono arrivate anche tantissime altre altre domande un attimo che le ripesco sì qualcuno che dice è vero il Rimogenio è molto presente anche nei disturbi alimentari ed è indubbiamente un processo che mantiene l'attenzione costante focalizzata ad esempio sulla riduzione del peso piuttosto che sulla forma fisica piuttosto che sul numero di calorie introdotte e quindi focalizza proprio tutte le risorse mentali su quei pensieri negativi lì alimentando la sofferenza emotiva della persona affetta da quel disturbo da quel disturbo alimentare questo testo è più adatto agli specialisti sì posso e mi informerò volentieri ok sulla presenza di testi di carattere più divulgativo insomma testi di autoaiuto come qualcuno chiede in questo momento non mi sovvengono dei titoli di cui io abbia diretta diretta conoscenza però posso posso assolutamente informarmi su questo e ok bene allora io direi che per quanto riguarda oggi ci ci fermiamo qui è stato molto piacevole molto bello stare con voi spero di avervi introdotti insomma con interesse con curiosità a questa tematica che è il che è il rimuginio di avervi dato qualche qualche dritta insomma qualche piccolo consiglio no su come iniziare ad immaginare di poter concepire il vostro rimuginio come qualcosa che può essere modulato come qualcosa che può essere gestito insomma e vi sprono diciamo così a non sottovalutare no l'impatto del vostro rimuginio della vostra ansia se questi dovessero essere particolarmente presenti e pressanti nella vostra esistenza sappiate che ci sono degli interventi e delle terapie e delle possibilità di percorsi che si occupano specificatamente per la riduzione di questi elementi così gravosi così faticosi quindi non precludetevi la possibilità di poterli affrontare con l'aiuto di qualcuno ecco io vi ringrazio vi ringrazio davvero tanto e magari con qualcuno di voi ci si rivedrà dal vivo chi lo sa vi ricordo anzi prima di andare perché mi stavo dimenticando una cosa vi ricordo che il nostro ciclo il nostro ciclo di incontri non è ancora terminato è giusto domani sera alle 18 c'è un altro incontro che ha a che fare con l'assertività e la capacità di gestire i conflitti che è un webinar altrettanto interessante che dà degli spunti proprio su come riuscire ad affrontare i conflitti diciamo così interpersonali e riuscire a dire i propri no in un modo funzionale e gentile senza farsi sopraffare dall'altro e dai bisogni altrui quindi se qualcuno fosse interessato vi invito a seguirlo domani alle 18 bene vi saluto è stato un piacere arrivederci a tutti domani alle 18 domani alle 18 domani alle 18 domani alle 18 domani alle 18